Quindi, penso di aver letto tutto. La giornata è meravigliosa, sono molto felice perché nella sala, come avete visto, c'era veramente tanta gente, c'è stata un'accoglienza strepitosa che neanche io mi aspettavo. È una giornata importante per me, per il mio gruppo, che mi supporta da tanti anni e credo anche per la città. Insomma, abbiamo presentato un lavoro che è un lavoro collettivo, di cui io sono un collettore dell'intelligenza che di fianco a me ho, di attivisti, di professionisti che magari si sono avvicinati al Movimento 5 Stelle, non tanto perché convinti dal nostro manifesto politico, ma perché credono nelle persone che ne fanno parte qui a Fano. E quindi, sinceramente, sono felice. Abbiamo presentato questo programma che troverete sul sito www.martaruggeri.it. È un programma bello, corposo. Ci sarà la possibilità tra qualche ora, forse qualche giorno, di condividerlo e di stamparlo anche tramite PDF. Troverete un nutritissimo programma di più di 100 pagine, sono quasi 130. Ma, contemporaneamente, è un programma che è consultabile anche in base ai capitoli, sono 10 capitoli, in fondo i quali troverete una parte attraverso cui mandarci dei commenti, dei suggerimenti, perché fino a metà marzo sarà un programma aperto. Nasce come programma aperto perché non è il frutto solo del lavoro, come dicevo prima, del mio movimento, ma dell'ascolto di tante realtà culturali, economiche e sociali, che è partito più di un anno fa. E quindi è un progetto che veramente abbraccia le esigenze della città, che travalica quelle che sono anche le aspettative del mio movimento politico e abbraccia le problematiche e avanza modi per risolverle. Ecco, oggi abbiamo parlato soprattutto degli sgravi fiscali, che abbiamo intenzione di mettere in campo, come quelle per l'apertura delle nuove attività imprenditoriali, abbiamo parlato del pacchetto familiare per bambini, abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di mobilità, di ambiente. Quindi abbiamo toccato tanti temi, l'ho fatto velocemente perché il tempo non era tantissimo, però è tutto rivisitabile attraverso il nostro sito, attraverso il mio sito e soprattutto ci saranno anche dei momenti specifici di approfondimento più avanti.